Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo tornati per la seconda volta Ma questa diciamo è abbastanza un video ricordo Di questa serie che è stata la più durativa probabilmente In confronto ad altre serie Che forse farò altri video non so di questa serie Che comunque è continuata anche fino a qualche mese fa Non mi ricordo di preciso Ma questa serie è iniziata bensì un anno fa Per me poi per voi non so quando esce il video Ma sicuramente è passato tantissimo tempo E con un anno abbiamo fatto solo questo Mi sembra abbastanza poco E vedo il magazzino e vedo anche che ci sono uova da schiudere E non so minimamente se ce l'ho o non ce l'ho Quindi farò più casino del solito probabilmente E intanto andiamo a schiudere il primo uovo Di questo nuovo Ok il drago del vento Ce l'ho sì o no Ricerca Qual è il del vento Questi mi sembrano del vento No elettrico Non me ne frega non me ne frega Ma hanno aggiunto anche sta roba No 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 Ma perché hanno aggiunto altre cose A me andava bene normalmente Basta È un drago flussuro Vabbè io devo fare Ok ho capito Non c'è bisogno che me lo spieghi Il drago del vento potrebbe essere lui Dell'amicizia Ok Qui non vedo nessun drago del vento Dovrebbe essere chiaro No Di qua Se magari si mette No Vediamo qui Lui Errante Non so Perché l'abbiano chiamato Errante Forse l'ho chiamato Io Vabbè Non mi ricordo Questo Che cosa gli è successo Perché c'è una fiamma Boh Non ho capito Penso che non ci sia Ok Schiudiamolo Posizioniamo Fare il negozio Abitate del vento Ovviamente dobbiamo già spendere Del vento Costa anche abbastanza Però ci abbiamo i soldi Per fortuna Qui perfettamente Abbiamo anche spazio E Mi sono Due ore Sto cavolo Che Oh La fattoria Ma L'arcata cinese Non mi serve molto Ma Più abitanti Buono Enorme fattoria agricola Buonissimo Poi qui Non accettare l'offerta Ok Io non pensavo Che fosse Non mi ricordavo Che questo gioco Fosse pienissimo Di pubblicità Intanto questo Lo posizioniamo Lo posizioniamo Qui Che Nutriamolo Vediamo il nome Ludo Perfetto il nome Vediamo Se quando Divente Comunque ragazzi Voi non sentite il rumore Ma io lo sento E' un rumore Pessimo Adesso sta crescendo Ho tanta frutta E' verdura Qui quindi Dai Muoviti Cresci Livello 10 11 15 Vai al nido Ok Lo posso comprare Dov'è il nido Questo che cos'è Dov'è si compra il nido Habitat No Edifici Nido Asilo Che cos'è l'asilo No Non in quel senso Cosa mi serve Fattoria agricola E questa è quella Che abbiamo Enorme Un po' troppo Costa Vabbè Non la compro Ma non so Come si mette L'altro coso lì Non lo metterò Tutti i miei draghi Saranno scarsissimi Perfetto Mettiamo Un uovo Dal magazzino Perché ne abbiamo Il mantide Penso che c'è La mantide Se hai il mantide Il drago fifone Ok Si schiude Tra un po' Quindi Visto che noi Io mi sono Proprio lasciato Tanti soldi Qui visto che Se ne possono mettere Più di tre Lo mettiamo anche lui Comunque io Mi sono Emery No Lui si chiama Franco Così Un nome a caso Don Ok Nutriamolo Nutriamolo Ma quanto Grande è diventato Ma Ma Cosa sta accadendo È gigante Ma Io non mi pensavo Un cambiamento Del genere Vabbè Questo video In teoria È durato Più di 5 minuti Quindi potrei anche Che cos'è Cos'è accaduto Boh Vabbè Lo vedremo tutto In un prossimo video Serverà E accoppiamo qualcuno A caso Quelli che abbiamo appena preso Che così Ecco Franco E Reni Franco Corazio È viva E viva Bravo Viva Pomona Che ricordi Ludo Non sappiamo Chi potrebbe arrivare Allora In teoria Questo ce l'abbiamo Questo ce l'abbiamo Questo ce l'abbiamo Questo ce l'abbiamo In teoria Se esce V VR In teoria Si chiama Speriamo Nel caso lo vendiamo Non lo voglio velocizzare Perché in teoria Questo video È già finito Andiamo a vedere Un po' qui Andiamo già a comprare E anche Espandiamo i nostri territori E questo Non abbiamo così soldi Vabbè Rispargniamo un po' E magari poi Lo ricompriamo Allora Ci siamo già Espansi Ancora un po' Togliamo un po' Di alberi Perché Dai su Danno solo fastidio Ma Non nella vita reale Ovviamente In questo gioco Togliamo tutto Che così Abbiamo più spazio Di costruzione Qui E Ok Anche questo Le rozze Però Vabbè Alcune cose Vanno via In 20 secondi Altre Vanno via Per esempio Come questa In 3 ore Neanche 50 minuti Vabbè Togliamo tutto questo Ragazzi Questo video è tutto Un ritorno Su Dragon City Appunto Mettate tanti like Arriviamo Arriviamo a 300 iscriviti Se volete vedere Altri video del genere Su Dragon City Che è comunque una serie Che c'è da molto sul mio canale Da più di un anno E Ci vediamo alla prossima Grazie a tutti